E ragazzi, come va? Io sono Firiniki E io sono Stef, e che si chiama Roblox E siamo tornati con il nostro 3 mappe in uno Inizieremo oggi da una mappa molto bella e molto particolare Perché consisterà nel costruire il nostro hobby Totalmente Esattamente, sarà tutto il nostro personale Potremo fare esattamente tutto quello che vogliamo E la cosa più particolare è che allo stesso tempo è anche un tycoon Perché in basso a sinistra abbiamo i nostri soldi La velocità con la quale la facciamo E tramite gli upgrade possiamo migliorare appunto Quanti soldi facciamo ogni 5 secondi Esatto O quello che è E quindi è un po' come se fosse un tycoon Dove creiamo hobby, dove proviamo gli hobby degli altri Un trip incredibile, davvero bello Non mi ricordo il nome della mappa Perché è tipo Obstacle Paradise Una roba del genere Vabbè, vabbè Ha un nome particolarissimo Ma direi di iniziare Abbiamo tanti soldi perché siamo rimasti FK un po' Per partire col botto E io parto subito migliorandomi un po' tutto Perché altrimenti qua siamo poveri e non possiamo fare nulla E questo è il tuo tycoon E quale? Questo E sì Come ti sei permesso? Che cosa è il nome? Sì È Veronica e non Fereniki Perché magari ti sei offesa per quello Perché Fereniki lo censura No, è perché fai... Adesso ti faccio vedere Scusate Fereniki Com'è possibile questa cosa? Guarda Allora Io qui lancio una pelle con solini Come si sono permessi quelli di Roblox di censurare Fereniki? Io non lo so Bisogna distruggerli Io lancio una guerra contro quelli di Roblox Perché questa cosa è impensabile e inammissibile Hai ragione Hai ragione Hai ragione Ma dai ma mi ha censurato tutto Però credo che sia facilmente intuibile Cioè anche signor maialino Ma vabbè C'è una sola spiegazione Allora Hanno visto i nostri video Sanno che sei una criminale di Roblox E ti hanno censurata malamente Questo è il razzismo contro di me Esatto Te lo dico Sì Hanno detto che non sei adatta a questo gioco E hanno ragione Allora dove è il mio? Allora cosa ti ha censurato? Schifo? Sì Ma che cavole Allora come lo chiamo? Aspetta Sta pensando ad altri insulti Ah lo so Aspetta Sì sì Mentre lei fa il titolo Noi pensiamo a potenziarci Allora 300 E a questo punto facciamo 15 Ogni 4.7 Così diventa ogni 4.4 Aumentiamo a 20 E a questo punto siamo super ricchi E come l'hai chiamato? Volevo scrivere Steph fa schifo A fare l'istante Ma ho dovuto Riformulare la frase Insomma Guardami negli occhi Però vi Guardami negli occhi Ovvie censure Adesso facciamo una sfida A chi fa l'obby più difficile Ok? Chi perde E si toglie l'uovo come skin Ma io faccio schifo Aspetta Aspetta Innanzitutto mi devo potenziare Un sacco di cose Sono piena di soldi Adesso quanto fai tu Ogni 5 secondi? Faccio 30 Ogni 4.1 Uh Eh sì Ho potenziato per bene E come hai fatto a migliorare i secondi? Scusami Il secondo Dai ma davvero? Sì Mi sto prendendo Dai il secondo Io sarei arrivato a fare 35 ogni 5 secondi Perché non avevo notato Eh ma devi fare upgrade Intervallo Ah ora sono a 4.7 Esatto 4.4 Ok ci sono Fantastico la cosa del secondo Qua invece su build Abbiamo tutte le cose che possiamo montare Ovviamente ognuna costa un tot E possiamo scegliere Oltre a quello possiamo Tramite questa cosettina qua Possiamo anche cambiare i colori Di tutto quello che mettiamo Questa cosa è carina Come si cambia il colore? Selezioni la cosa Ti compaiono i colori Ah ok Premi Ah ma ci sono un sacco di cose Sì esatto Un cos'è inizio Ci sono un sacco di cose Brava hai detto bene Un cos'è inizio È una mappa bellissima Allora io faccio tutto così Io voglio questo Mi piace questo colore Io volevo l'arancione Ma purtroppo non c'è Quindi mi sono arrangiato Con giallo e nero Sì mi piace Mi dice lunghezza massima Dell'ubi raggiunta Com'è possibile? Io non ho manco iniziato Ah Vedi lì in fondo? Dove? Avevo notato questa cosa Quando l'hai preso Se guardi lì tutto in fondo C'è una costruzione strana Ho paura che te la consideri tua Come ti senti a riguardo? Allora Live game e cambiamo mappa No Fere No basta Non abbiamo neanche iniziato Ciao Ciao Fere No mi hanno censurato il nome Non mi fanno fare lobby Cioè questo è proprio un complotto Dei creatori di roba Contro Fere Niki Quindi sono uscita Basta Fere No non torno Non torno Abbiamo fatto un intro lunghissima Spiegando la mappa A sto punto dobbiamo anche giocarla Non è che qua si fanno solo le intro Vieni dentro e fai da brava Che ti sto preparando un bellissimo hobby Per torturarti Allora a questo punto Vediamo cosa costruisco Mi piace questo Sì Ok A questo punto Avanziamo Oh mamma mia Come Che bellino che è È troppo bellino a questa parte Sì perfetto Ok Quindi ho preso un altro Ho evitato di riprendere il viola Brava Ti vorrei far notare una cosa Sì C'è anche un consolino che ci ha scritto Ciao 2PlayerSwanConsole Anche se c'è Ciao consolino Anche se non ci puoi sentire Va bene Va bene Va bene Allora Questo mi piace molto Poi facciamo Allora Questo è molto easy Questo è bellino Sì Ah no Non sei un Deluxe member Eh Blah 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 Noia Prima VIP Adesso Deluxe Ah c'è pure il Checkpoint Benvenuta nel mio hobby Facciamolo insieme Ok Ovviamente Sento che il nero mori Quindi Stia bella attenta Oh questo Questo pezzo è difficile Me lo metto Me lo metto nel Sì 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 Non è per niente semplice Te lo consiglio anche io Allora qua pensavo Sembrava più semplice Vedersi Mentre tu lo fai Io faccio i colori Ok E qua secondo me Può essere molto bellino No scusa Mi sta a diavoleria Come la dovrei fare? Non lo so neanche io Esattamente Però si può fare Ok Esatto Ah ma puoi fare poi anche a sezione tutto colorato Puoi fare un arcobaleno fighissimo Sì Ma che bello Sì 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 Assolutamente sì Vado avanti Ok Vabbè Brava Siamo pazzi Ce la puoi fare Fere Ce la puoi fare Allora ripetiamo Blu Verde Aspetta che arrivo E poi diciamo che ci metto molto Bianco Guardatelo Guardatelo Poi sono io quella che ci mette tanto Nero E l'ultimo di nuovo rosso Ok Qua non so bene come funziona Eh dovrei saltare Penso questa piattaforma Ma non salto Fere Dimmi 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 Mi spieghi perché Il consolino Ha un hobby così figo? Oh mamma mia L'ho notato adesso Ok ok Fere com'è possibile? Essere molto bravo Lo proviamo Bravo consolino Dai lo proviamo Bravissimo E poi ha 23 Quindi è un figo incredibile Perché 23 è uno dei miei numeri Andiamo Forza forza proviamolo E cerchiamo di finirlo Opla 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 Questo ho capito che è abbastanza easy No Ecco qua Mi hai spinto Eh lo so Mi hai ufficialmente spinto Lo so Mi dispiace però è andata così Quanto è grande Cioè ma ci mettiamo un'infinità a farlo eh No È caduta No c'è un livello che ti frega Fai attenzione Fai attenzione No 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 E vediamo se ci cadi tu adesso Dicono tutti così cara No vediamo Opla 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 Ah ma questo No Vedi Vedi Così impari Così impari ad avermi preso in giro Non te l'ho detto Mi vale ma non me ne aspettavo che scomparissero Neanche io Devi essere molto molto veloce E a prova di E a prova di two player su un console Allora aspettiamo che ricompaia Hop È fastidioso questo stordo Fatto bene a metterlo guarda È proprio fastidioso Sì sì no È molto fastidioso Che poi ce la fai anche se ci cammini E non devi per farlo saltare One two three four five Allora qui cosa sarà Si muove si muove Che bello Sei pazzo No vabbè ma Bellissimo vai fare Ci sono cose che negli hobby Non abbiamo mai visto Esatto E però la costruisci tu stesso Cioè cosa vuoi di più Poi guarda Questa è proprio una stradina Per andare un po' più in alto E poi di nuovo Ostacoli Uno Due Tre Quattro E poi papperelle Ovviamente ragazzi Link in descrizione Descrizione Della mappa Link in descrizione Della mappa E Steph è caduto di nuovo No ti volevo dire una cosa Che in questo momento Mi sto vergognando Del mio hobby Vabbè ma abbiamo appena iniziato È normale Tu è più bello lo stesso Cioè che ti devo dire Allora io continuo a fare gli upgrade Nel mentre Perché devo velocizzare Ogni quanto mi paga Ogni quanto mi arriva la paghetta Perché altrimenti Non potrò mai fare un hobby così bello Stai calmo Non hai capito Cosa c'è più avanti Tu non hai capito Capito è il male Questo hobby È davvero il male Fede Fai un bel respiro No Che poi ogni volta Devi rifare tutto da capo Cioè andare che Allora Io negli hobby Negli hobby che fai di solito Riparti dall'ultimo livello Che hai giocato Quindi devi rifare tutto Lo puoi mettere nel checkpoint Ma costa tantissimo E quindi Ce ne freghiamo E ripacciamo Questa signorina è un po' strana C'ha il corpo da maschio Però con i capelli rosa E un po' mi fa paura Che ti devo dire Infatti l'ho fatta cadere di sotto Perché ero un po' spaventato Se devo essere sincero Non è una bella cosa da dire E neanche da fare Lo so Lo so Però se non è un consolino Posso farlo Allora Continuiamo a salire Qua c'è tutta la salitina Ok Che No ma dai Ma siamo pazzi Ma questo si muove È quello che ti ho detto Sono morta proprio là Cioè lo vedi No non riusciremo mai a finirlo Io te lo dico Non riusciremo mai a finirlo Vieni a provare il mio Ok Dov'è il tuo? Qui Sarà decisamente più semplice Rispetto a quello Quindi Filati della rondine che vola Allora Opla Perfetto Questo è subito un inizio Davvero complicato Questo l'ho fatto 20 volte ormai Poi abbiamo la versione Ecco baleno By Steph Molto carina Le ho messe anch'io Ste paperelle cattivissime Non sono troppo belle? Sì sì Sono bellissime Super arrabbiate Con il diavolo E adesso? Adesso È tutto di indovinare Dai no Non me lo farei indovinare Che devo rifare tutto Qual è? Tu lo sai No non lo so È questo però Basta usare la telecamera No c'è la tele alla fine No ma non fa neanche a saltare Quindi Come funziona allora? Allora forse non era quella giusta Nel senso Sono tutte solide Però una ti permette Di andare fino alla fine Hai capito? Cioè Mi sto mettendo ad una prova Ma è così Ma è super pro Ma è fighissimo Non abbiamo mai visto queste cose Non siamo minimamente abituati Non riesco a finire il mio stesso hobby Cioè È una cosa infertile Non vorrei dire Ma è grave la cosa Allora Il celeste non è Secondo me il rosso Sì Era rosso? Sì Io per sicurezza ho saltato alla fine Quindi Io ci ho provato a saltare alla fine Però non Non me l'aveva fatto fare A questo punto però No piano che qua ci scontriamo Per adesso Adesso scompaiono Vediamo No no Devi azzecarle Quindi verde Viola E a sto punto altro viola Oh yes Verde Viola E altro viola Ok E qui le pareti E boh Uno dei due lo finisce L'altro muore Andiamo 3 2 1 Ce l'ho fatta Vabbè Mi putto di sotto Così torna da te Allora Upgrade Gli intervalli Adesso mi sta pagando Ogni 3.2 Buonissimo E dopo 45 ore Siamo arrivati al checkpoint Del lobby Del nostro consolino Peccato che siamo tipo A un piano su quattro Tutto ok? Sì 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 Era difficilissimo Con quello va in avanti Con questo? Sì Prima l'altro ti spingeva lì indietro Questo ti spinge in avanti Quindi mi è un po' confuso Qui qual è? Oddio Non l'ho visto Opla 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 Oh no Fere Non ho visto dove è passato Qual è secondo te? Direi quello di colore diverso Ma non mi fido Io ci vado Sicura? Sì No Ok Ora si sale E c'è il nuovo checkpoint Oh che bello Che ne ha messi diversi Yes Che bello Sono in alto Sono in alto No vabbè Mancano troppi piani Continuo Ma quanti ne ha fatti? Continuo Sono in altissimo Dove sei tu? Ah eccoti Sei in bassissimo Non so Lascia perdere Ancora che non mi manca Niente troppo a finire Allora il problema È che sono di nuovo Dove ci sono le scelte E dove ci sono le scelte Steph muore sempre Esatto E infatti Appena morto Bravo Allora quindi non è il centrale Oh altro checkpoint Destra o sinistra Destra o sinistra Eh Sinistra Sì Giusta Ce l'ho fatta Dai che ce la faccio Dai che ce la faccio Mentre sto continuando Ad aumentare la produzione E sto facendo 50 ogni 1.7 secondi Quindi È bellissimo Qua è diventato tutto rosa Che bello Sto diventando super ricco Sì cambia fisso i colori Ora io sono la zona tutta gialla Tutto rosa Che bello Io sono al tutto giallo Tutto giallo Tutto di tutti i colori Perché mi piacciono tutti i colori E li ho messi a punto Ovviamente alla fine del suo hobby C'è la cosettina che dice Che hai finito Quindi voglio arrivare lì Voglio mettere i miei piedini Sulla fine A questo punto Dato che ci sono due ore Che vengo torturato Ce la voglio fare Opla 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 Queste cose ormai Sono troppo facili per Steph Ciao Finalmente Ce l'hai fatta Sì 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 Adesso cado qua Me lo sento Guarda come fare questo Ok No ma mi piace farlo così Dai che no Preferisco il mio modo Che poi finisce che ci cado Quindi preferisco Ma è molto facile Molto facile Siamo quasi alla fine Allora questo si muove Sì Quindi stai attenta Vai Opla 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 Bravissima Qui a quello centrale L'ho scoperto dopo essere morto due volte Ok Quindi vai così Fai andare lui Vai Ok Ho rischiato di farlo buggare Vai Perfetto Qua mi sa che di nuovo Ah no questo è quello fermo Ma molto fine Quindi Ta 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 E ta Manca poco Manca poco Due ostacoli ce l'abbiamo fatta Due ostacoli ce l'abbiamo fatta Consolino Festeggiamo Dai 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 Allora paperelle Finalmente Paperelle stiamo attenti alle paperelle Che ogni tanto si buggano Ui Ui Perfetto Questo mi sa che si muove Aiuto È proprio Antipatici Metterlo alla fine Ho fatto il badge Del winner Io direi che ci possiamo fermare così per questo video Fateci sapere se lo volete vedere in un tre mappi in uno Perché magari Questa fine è stato un video unico su questo Perché ci è piaciuto troppo Però magari lo mettiamo in un altro tre mappi in uno Perché così potenziamo ancora di più il nostro hobby E diventa super difficile Dato che ormai facciamo un sacco di soldi È facilissimo potenziarlo tantissimo E potrebbe essere divertente Quindi fateci sapere nei commenti Sondaggino Likes E ci fermiamo così Beh ragazzi Se ci piace così Se ci piace Se ci piace Se ci piace E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao